Siracusa ha beccato un ladro di biciclette, denunciato il ricettatore, un altro uomo per inosservanza agli obblighi. Un siracusano di 47 anni è stato denunciato per il reato di ricettazione di una bicicletta rubata. Poliziotte delle volanti, poco dopo la mezzanotte, hanno intercettato nei pressi di Via Cuma il denunciato in sella ad una bicicletta. Gli attenti riscontri operati nell'immediatezza hanno consentito di fare luce sul furto del mezzo e sulla circostanza che l'uomo in possesso della bicicletta dichiarava di averla comprata da un individuo che non conosceva. Inoltre, nelle prime ore della mattinata odierna, agente delle volanti hanno denunciato un sessantenne per avere violato la prescrizione prevista dall'affidamento ai servizi sociali cui è sottoposto.